Oggi vorrei proporvi la lettura del libro scritto da Edith Brook, Lettera alla madre, edizioni La nave di Teseo. Edith Brook è di origine ungherese, è un'ebrea e ha vissuto da bambina l'esperienza drammatica e traumatica del campo di concentramento, nello specifico quello di Auschwitz. Questo libro viene scritto all'indomani del suicidio di Primo Levi, amico della nostra autrice. Autrice che non riesce ad accettare e a comprendere fino in fondo questo gesto così definitivo. Primo Levi sicuramente era depresso, ma è stato un sopravvissuto ed è stato forse uno dei più puntuali narratori di quello che è accaduto all'interno dei campi di concentramento. Ma questo libro non parla di questo. Questo libro sicuramente affronta quella che è stata la sofferenza dei deportati all'interno di questi luoghi di dannazione, ma affronta un altro tema che è quello dell'essere sopravvissuti. Ma anche in questo aspetto lo fa in un modo particolare. Nel senso che affronta quello che è il dialogo, quello che è stato il dialogo interrotto tra molti bambini che sono stati separati nel momento della deportazione nei campi di concentramento dai loro genitori, nello specifico dalle loro madri. Ed è quello che è avvenuto alla nostra autrice. Infatti sua madre è subito stata inviata nelle camere a gas e lei ha questo ricordo di questa severità, di questo comando della madre nell'indirizzarla altrove, lontano da lei, consapevole di quello che di lì a poco sarebbe poi capitato. È un libro molto interessante perché in un certo qual modo sonda un aspetto che appartiene a noi tutti. Tutti siamo figli, tutti siamo nati da una madre e tutti abbiamo sperimentato nel momento della nascita quel momento di distacco che solitamente in breve tempo viene ricucito, subito si viene avvicinati, riavvicinati al corpo materno e quindi questa carnalità si ripristina per poi dare libero svolgimento a quella che è la costruzione delle emotività con la madre e anche del rapporto che poi si svilupperà col tempo, col trascorrere del tempo. Tutto questo Edith non lo sperimenta come tutti i bambini che hanno vissuto la sua esperienza. E lei ha necessità di raccontare, soprattutto di parlare con sua madre, di recuperare questo dialogo che è stato interrotto. E quindi in questo libro, in queste pagine, c'è tutto questo. C'è questo tentativo di raccontarsi, di trovare anche delle risposte rispetto a un atteggiamento di una madre che viene descritta come severa, una madre molto organizzata, votata a organizzare la quotidianità per ottimizzare i risultati, ottimizzare i tempi, diremmo nel linguaggio contemporaneo. C'è un altro aspetto molto interessante, che è quello legato alla profonda differenza non solo di aspettative e caratteriale di Edith rispetto a sua madre, ma anche rispetto alla religiosità. La mamma di Edith è una donna molto credente e non ha mai messo in discussione Dio. Edith, invece, è una bambina che si è fatta sempre molte domande e che vive in un modo laico quella che è la sua esistenza. E quindi anche questo è un dialogo che non ha mai potuto avere una sua espressione concreta e che in queste pagine cerca di essere ricostruito, per così dire. Per tutte queste motivazioni consiglio vivamente la lettura di questo bel libro scritto da Edith Brook, Lettera alla madre, edizioni La nave di Teseo.